La città di Teramo si arricchisce di un nuovo servizio di mobilità verde. 70 biciclette elettriche saranno presto disponibili per il noleggio presso 18 stazioni distribuite nell'area urbana. Questa iniziativa è frutto dell'adesione da parte del Comune al sistema di condivisione di e-bike sharing promosso da TUA. L'obiettivo è quello di favorire uno spostamento ecologico integrato con i mezzi pubblici, contribuendo a ridurre il traffico nelle zone più congestionate e a elevare il benessere dei residenti. Un progetto importante, un progetto che il Comune di Teramo ha fin da subito sostenuto e promosso, un progetto su proposta ovviamente della TUA, ma rispetto al quale il Comune di Teramo si è posto in prima linea con queste 70 biciclette elettriche su 18 postazioni a servizio dei cittadini e dei turisti. Ed è un'azione, un'operazione che si inserisce perfettamente all'interno di un percorso che stiamo portando avanti ormai dall'inizio del primo mandato per un cambiamento profondo anche della cultura della mobilità della nostra città nell'ottica ovviamente di una mobilità sempre più sostenibile. Il servizio che non comporta spese per il Comune consente di riterrare una bici elettrica da una stazione e di restituirla nella stessa in un'altra stazione a scelta. L'operazione si effettua tramite un'applicazione dedicata per smartphone con costi variabili a seconda del tempo di utilizzo, oltre alla possibilità di sottoscrivere abbonamenti. Per prevenire danni e furti le biciclette sono equipaggiate con sellini fissi e un sistema di tracciamento GPS. Funzionerà attraverso anche dei sistemi informatici, informatizzati, con delle app dedicate che consentiranno proprio una fruibilità e un'accessibilità decisamente aperta a tutti. Questo è l'aspetto più importante, soprattutto perché si lega a tutta un'altra serie di iniziative che in città stiamo portando avanti. Pensiamo in particolare ai progetti PNRR sulle piste ciclopedonali che riguarderanno tutto il territorio comunale, pensiamo ai progetti che avranno ulteriori punti di scambio per la mobilità attiva in città, come il progetto di riqualificazione della stazione, dell'autostazione. Quindi è un percorso, un progetto che si inserisce perfettamente all'interno di una strategia che vedrà ovviamente Teramo sempre più in linea con quelli che sono gli obiettivi europei della mobilità sostenibile.